Che ci fai col culetto di carota? Non buttarlo! Mettilo a germogliare in un recipiente con poca acqua Il suo ciuffetto verde inizierà a crescere a vista d'occhio E diventerà una piantina carinissima Quando sarà abbastanza grande e saranno spuntate le prime radici Allora sarà il momento di piantare il culetto in terra Avrai ottenuto la tua piccola piantina di carota No, la carota non ricrescerà sottoterra Ma se te ne prenderai cura genererà fiori e poi semi Che potrai piantare per ottenere tantissime carote È incredibile quanto cresca velocemente E quanto sia carina anche solo come piantina ornamentale Libera il coniglietto che c'è in te e salva un culetto di carota Caro culetto